Nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo si è svolto un convegno su un tema di stretta attualità, il premierato, la riforma e le possibili alternative. L'obiettivo era quello di analizzare in maniera approfondita i vantaggi e gli svantaggi della proposta di riforma, confrontando le diverse opinioni e prospettive sul tema. Sono intervenuti politici, giornalisti e rappresentanti della società civile al fine di stimolare un dibattito costruttivo e approfondito su questo delicato argomento. Vi posso dire che questa è un'iniziativa particolarmente utile, promossa dalle Acli, perché la gente è totalmente disinformata di quello che ha di fronte. Sì, sa cos'è il premierato, forse, conosce quelle che sono le difficoltà oggettive nelle quali si muove la pubblica amministrazione e il governo, crede che questo sia un strumento di soluzione dei problemi, ma nel contenuto di questa riforma ne sa veramente poco, don della pregevolezza di questa iniziativa di questa sera. Sono motivazioni che entrano nel vivo della riforma attraverso degli autorevoli relatori, costituzionalisti e rappresentanti delle istituzioni, che appunto ci rappresenteranno sostanzialmente quello che è la riforma, cioè proprio il tessuto della riforma stessa. Per fare in modo noi come Acli, per dare la possibilità sostanzialmente alla cittadinanza di essere estremamente informata, visto che poi le ricadute sui cittadini sono comunque importanti. Perché c'è molta disinformazione su questo tema importante. Assolutamente, c'è anche molta confusione, si fa confusione tra premierato e presidenzialismo, quindi è chiaro che il cittadino ha necessità di avere sostanzialmente un'informazione adeguata. E noi come Acli sul territorio lo facciamo, soprattutto quando si tratta di temi che vanno a toccare la collettività come questo. Si parla di come efficientare l'azione politica, ma non di premierato, e anzi noi consideriamo che questa riforma, così come proposta dal governo, sia una riforma pericolosa e una riforma sgangherata, lo voglio dire così, intanto perché mette in seria discussione la figura di garanzia come quella del Presidente della Repubblica e poi perché noi passiamo da una forma parlamentare di fatto a una capocrazia che mette nelle mani di una sola persona tutto il potere senza contrappesi. Ecco, direi che non è la strada migliore da percorrere, infatti siamo qui a dire i motivi per i quali siamo contro. Una delle testimonianze preziose apportate nel corso di questo dibattito sul premierato è quella dell'onorevole Ivan Scalfarotto. Allora, è un tema abbastanza spinoso. Sì, però è un tema al quale bisogna avvicinarsi con la consapevolezza che una riforma costituzionale è assolutamente indispensabile perché il nostro sistema istituzionale, proprio la macchina dello Stato, fa veramente fatica. In questo momento il Parlamento leggifera sempre su decreti legge, ci sono sempre le fiducia del governo per cui non si riesce a entrare nel merito dei provvedimenti. Spesso una delle due camere ratifica quello che ha fatto l'altra senza studiare, esaminare i provvedimenti. Quindi il nostro bicameralismo paritario, quello che c'è scritto in Costituzione, in realtà di fatto non esiste più. E questa farraginosità della macchina poi è un prezzo per il Paese perché il Paese ha bisogno di decisioni rapide, ha bisogno di decisioni che siano prese appunto senza lunghe attese. Il mondo attualmente è talmente complesso e rapido che una macchina che arranca poi è un problema anche per il nostro Paese. Quindi bisogna, secondo me, sedersi al tavolo non accettando soluzioni sbagliate, però aspirando a fare un buon lavoro di riforma.